Io posso renderti ricco, tanto da far colpo su una principessa. Che dovrei fare? Entra nella caverna delle meraviglie e portami la lampada. Oh, gran signore, che mi edochi! Scherzo, guarda qui! Attento! Puoi contare sempre su un amico grande come me! Ehi, puoi farmi principe? Ti fidi di me? In prima visione, Alabi, questa sera, 21 e 25, Rai 1.